Bravo sei, in silenzio radio vi ricordo il mio canale di telegram per notizie in tempo reale primo link è in descrizione e poi ragazzi come spesso accade per questo video vi chiedo almeno 1500 mi piace perché è un video della madonna risponderò a una delle domande più frequenti che mi state facendo se esisterà o meno una season 7 ma soprattutto abbiamo anche le prime prove riportate da leaker famosi quindi mettetevi comodi, allacciate la cintura prendete una bevanda fresca e partiamo subito ieri pomeriggio mentre eravamo in live ci sono stati grossi problemi relativamente ai server infatti ieri pomeriggio per rispondere ai tante domande che mi sono arrivate mi ho riportato anche la notizia su telegram per un'ora c'è stata un'interruzione sia per quanto riguarda i server di Call of Duty Warzone sia per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare sia per quanto riguarda quelli di Cold War Activision purtroppo ha parlato del problema soltanto nel tardo pomeriggio dicendo che i problemi erano stati risolti però ce ne eravamo anche accorti da soli comunque vi confermo che ieri i server hanno avuto problemi perché alcuni riuscivano ad entrare altri no ma chi era già dentro riusciva a giocare mentre chi entrava per la prima volta non riusciva proprio ad accedere quindi vi confermo questa cosa anche perché me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram il game director invece di Treyarch Davide Vonder ha risposto ad un twitter del Pro Players Camp che si dice confuso riguardo l'assenza di una playlist competitiva già presente a rilascio del gioco Davide Vonder dice che sarà rilasciata e che è dalla sua parte chiedendo di essere buoni con la sua crew è già la seconda volta che viene confermato che appunto arriverà la modalità competitiva all'interno di Black Ops Cold War cosa che era stata confermata sempre dallo stesso David Vonder che poche settimane fa ha detto non esiste nessun Black Ops senza appunto la modalità Lega ieri sera invece c'è stato l'aggiornamento come vi avevo annunciato sia per quanto riguarda Modern Warfare sia per Warzone in merito alle playlist vediamo che cosa è stato introdotto di nuovo nel molti giocatori progetti scontro cerchi e distruggi punte raddoppia 12 contro 12 Mosfit in modalità notturna su Warzone rimossa malloppo terzietti rimossa la mini royale che praticamente è durata poca e niente ma l'hanno introdotta c'è stato il problema e non l'hanno neanche risolto aggiunta malloppo denaro sporco quartetti è stato aggiunto poi nel negozio un nuovo bundle chiamato Tracer Pack Ametista Iskra al costo di 2400 Call of Duty Point contenente una skin leggendaria per l'operatore Iskra tre progetti arma leggendare con effetto tracciante scie color viola e diversi oggetti cosmetici ma adesso entriamo nel vivo del video perché una delle domande più ricorrenti durante le mie live sotto i video di youtube su telegram su instagram è amante ma ci sarà una season 7 attualmente né Activision né Infinity Ward hanno mai annunciato una season a riguardo anche perché come vi ricordo il 10 di dicembre ci sarà la season 1 per quanto riguarda Cold War che avrà il battle pass in concomitanza tra Modern Warfare, Warzone e Cold War quindi si potrà livellare indipendentemente dal gioco su cui ci troviamo però in queste settimane sono uscite talmente tante informazioni ma addirittura dei pezzi di video ed immagini che vi farò vedere che dimostrano dei contenuti nuovi per quanto riguarda Modern Warfare che potrebbero essere contenuti della season 7 o eventualmente anche contenuti che poi sono stati accantonati o eventualmente integrati per il futuro Black Ops Cold War quindi sentite bene il leaker di Cheeseburger Boys è convinto che ci sarà la season 7 ma non soltanto lui ne è convinto anche Modern Warzone ne è convinto anche TGR ne è convinto anche BookTor ecco quello che attualmente sappiamo su una possibile presunta season 7 di tutto quello è stato trovato all'interno del gioco nuovo operatore della coalizione John Soap McTavish sono stati trovati i file di gioco sono stati trovate le stringhe quindi perché hanno inserito questi file se poi non sarà introdotto come operatore nuovo operatore dell'alleanza basato sul coreografo Shane Spark nuova mappa 6 contro 6 Kill House trovata nella patch 1.29 vi faccio vedere la prima immagine in anteprima si vocifra che possa arrivare una nuova mappa 2v2 chiamata Town House è stata trovata sempre nei file di gioco dopo la patch 1.29 la pistola di Makarov ed eccola qui in anteprima ed eccola qui sempre in anteprima la mitraglietta Scorpio Nevo della saga di Black Ops trovata sempre all'interno del gioco quindi perché hanno introdotto dentro alla patch 1.29 queste cose e poi la season 7 non ci sarà quindi un grosso interrogativo ragazzi in merito al rilascio o meno di questa season 7 però vi ho dato le prove che comunque ci sono dei contenuti nuovi che non sono presenti nel gioco ma che sono stati inseriti all'interno dei file con la patch 1.29 video raggiornati appunto sulle decisioni che prenderà Infinity Ward appunto su questi contenuti su questa season misteriosa voi rimanete sintonizzati come sempre 1500 mi piace per questo video incredibile ci vediamo alle 13.30 in live su Twitch primo link in descrizione Telegram per tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty e noi ci vediamo domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo T.G.Code